Allora, Orazio Mitri, una capatina in Molise, il tuo Molise che non hai mai dimenticato che porti nel cuore anche perché a Santo Stefano ci sono ancora i tuoi genitori, ci sono dei parenti, una capatina di due giorni. Sì, vengo sempre, perché Santo Stefano è il mio paese di nascita, quindi ho ancora i miei genitori, quindi vengo spesso a trovarli. E quindi questa volta sono venuto per pochi giorni per vari impegni, però sono sempre felice di tornare perché Santo Stefano e Campobazzo rimane il mio paese. Senti, sei a Tricase adesso e stai svolgendo da qualche anno il ruolo proprio di allenatore del Tricase, l'ultima stagione nel campionato di promozione. Allora, come sta andando in questa nuova veste? Ma è diverso, sinceramente pensavo meglio, però sto avendo un po' di problemi perché quando giochi magari è diverso, poi da allenatore devi iniziare da zero, quindi non è facile. Diciamo che ho iniziato qui a Tricase, una squadra di promozione, anche facendo abbastanza bene. Poi ho passato un po' di anni in settori giovanili e il mio obiettivo, ripeto, è quello di cercare di rientrare un po' nel calcio che conta. Non è facile, però cercheremo in tutti i modi magari di riuscirci. Diciamo che per il ruolo di allenatore, a differenza di quello di giocatore, probabilmente ci vogliono delle qualità caratteriali diverse. Poi come si dice, l'allenatore a volte è sempre indicato come il responsabile di situazioni, di mancati risultati. Quindi probabilmente è richiesto un carattere diverso, più forte? Sicuramente sì, anche se sono consapevole di questo, anche se mi piace prendermi le responsabilità, perché uno che fa l'allenatore deve prendersi le responsabilità, perché poi alla fine devi gestire un gruppo di tante persone. Quindi magari quando giocavi andavi in campo e giocavi, l'allenatore è diverso, devi gestire tante cose, quindi non è facile. Però ho fatto il calciatore per più di vent'anni, quindi sono consapevole di questo e quindi mi piacerebbe fare questo lavoro. Ora vediamo magari più avanti se c'è la possibilità di allenare qualche squadra e di continuare nel mondo del calcio. Perché da quando sono nato ho fatto solo questo e quindi a fare qualcos'altro non mi ci vedo. Quindi spero di rimanere in questo ambiente e di fare bene anche da allenatore. Di Campobasso sempre nel cuore, in due parentesi molto lontane fra di loro. Prima nell'87-88, quando praticamente, correggimi se sbaglio, avevi 18 anni, 19 anni. E poi quella stagione bellissima della promozione in C2, 99-2000. Ma sì, sono due annate indimenticabili. La prima perché a 17 anni ho esordito in campionato professionistico, diciamo, quello era il mio sogno da bambino. Poi arrivare, farlo nella propria città, quindi è ancora più bello. Ho ricordi bellissimi di quell'annata perché sfiorammo la Serie B per pochissimo e quindi è stato un campionato abbastanza positivo. Poi il ritorno nel 99-2000 dove abbiamo fatto un'impresa incredibile. Vedere allo stadio 20.000 persone l'ultima partita contro la Vastese mi rimane ancora stampata nella mente. Quindi questi sono ricordi che sicuramente non riusciranno mai dal mio cuore perché, voglio dire, vincere un campionato nel proprio paese davanti a tante persone è sempre una cosa molto emozionante. Senti, il Campobasso a distanza con una situazione societaria che è in evoluzione perché c'è stato proprio neanche un mese fa, l'11 luglio scorso, un cambio di proprietà. Una società che dopo il fallimento di Capone praticamente è stazionata in Serie D. A distanza che cosa vedi e soprattutto cosa pensi del calcio rosso-blu? Guarda, io ho seguito qualcosa per la vicenda del Campobasso su Facebook e poi anche tramite i miei parenti che ho qui. Ma innanzitutto sono contento perché poi la squadra è stata scritta in Serie D perché non è mai facile, voglio dire, quando risalire queste categorie. So che ora c'è una cordata di fuori con la speranza che magari questa cordata cerchi di fare le cose per bene, ma soprattutto per il Campobasso, perché il Campobasso è una piazza secondo me che in queste categorie è sprecata. Il Campobasso è una piazza dove si riesce ad avere una società alle spalle solida che cerca di costruire nel tempo, secondo me quello stadio si può riempire. Una volta che riesce a riempire quello stadio penso che sia arrivato all'obiettivo, quello che uno si aspetta, perché il Campobasso è una piazza, secondo me una delle poche piazze che ci sono in giro, come anche le ecce che fanno fatica a risalire. Però se alle spalle si riesce ad avere una società solida penso che può tornare nel calcio che conta, anche perché il Campobasso lo merita. Un'ultima cosa, noi ti ringraziamo di questa intervista, di questa visita, adesso ritornerai a Tricase, quindi ti aspetta anche un lungo viaggio. Qualche settimana fa intervenne in un nostro telegiornale sportivo Carletto Perrone, un'altra vecchia gloria rosso-blu come te, e disse un giorno mi piacerebbe allenare il Campobasso. Tu? Ti associ? Ma sicuramente mi associo a Carletto Perrone che ha fatto la storia del Campobasso. Sicuramente allenare il Campobasso sarebbe il massimo, diciamo, come giocare nel Campobasso e anche allenare il Campobasso, anche se sicuramente, ripeto, allenatore è molto più difficile, però è una responsabilità che prendere volentieri, diciamo, perché il Campobasso è una piazza importantissima. Grazie. Grazie.